Buongiorno a tutti e benvenuti a questo podcast settimanale. Di nuovo siamo stati di fronte a una settimana particolare, perché è la settimana in cui il mercato americano è tornato in auge con il suo indice principale S&P 500, sino a sfiorare i massimi storici. È lì, proprio in prossimità, e li ha toccati, testati, però non c'è andato sopra. Questa è una considerazione significativa, perché la chiusura settimanale è rimasta intorno a quel livello. Detto questo, è un buon momento per il mercato S&P 500, ma la stessa cosa non si può dire per il Nasdaq. Il Nasdaq è più debole attualmente, perché più deboli sono i titoli del settore grosso. I titoli del settore grosso sono particolarmente quelli del Nasdaq, quelli che sono più dinamici ma anche più esposti, per esempio, al potenziale rischio dell'aumento dei tassi di interesse. In questo particolare momento ci sono alcune situazioni su cui bisogna riflettere e che potrebbero gravare. Intanto diciamo che il tasso di interesse del decennale ha continuato a muoversi. Quando è stato annunciato il tapering, adesso stava intorno all'1.3, oramai siamo stabilmente sopra 1.6, anzi esattamente a 1,66% circa. E quindi diciamo che non siamo ancora su valori che possono giustificare in alcun modo un travaso da azionario obbligazionario, anche perché il rendimento reale si compone del rendimento facciale, quindi quello del decennale, meno l'inflazione che però è talmente alta ora negli Stati Uniti che comporta un'erosione del capitale perché il rendimento reale è decisamente negativo e però è sulla strada di un aumento e tra poco noi sapremo come la Federal Reserve intenderà attuare il tapering e quindi quanto potremmo aspettarci che il rendimento del bond decennale statunitense possa in seguito salire. Ma poi ci sono altri parametri, vi ho detto in più occasioni che secondo me uno dei pilastri su cui si è basato tutto il rialzo è stata la capacità delle aziende, del settore grosso, soprattutto di stupire non tanto e non solo con i loro risultati ma soprattutto con le loro aspettative che sono andate sempre migliorando nel tempo, ebbene in questo momento possiamo dire che alcuni di loro possono avere delle situazioni particolari, per esempio abbiamo visto Tesla fare molto bene e anche andare a farsi il nuovo massimo storico, ma abbiamo visto Snapchat, quindi un social, veder crollare praticamente il proprio fatturato in termini di pubblicità e anche veder crollare il prezzo del titolo sul mercato perché insomma diciamo che la perdita è stata abbondantemente superiore almeno 20% evidentemente del titolo dopo gli earnings, dopo la trimestrale data. Questa cosa potrebbe riflettersi anche su altri titoli del settore come Facebook che sicuramente soffriranno e che anche qui ha vissuto una seduta dell'ultimo giorno di venerdì molto molto negativa. Evidentemente questo rappresenta uno spauracchio perché? Perché per Snapchat si parla in particolare delle attività diciamo del sistema operativo di Apple che in qualche modo consentendo all'utente di evitare il tracciamento dei propri dati rende meno fruttifera la pubblicità e quindi riduce gli investimenti in pubblicità e questo è un dato di fatto di cui bisognerà tenere conto, cioè gli utili di queste società basate quasi tutte e solo sulla pubblicità e poi basta che si possano tracciare meno le persone con tutto quello che fanno e subito c'è un crollo significativo. Questo non depone a favore delle aspettative, anche perché noi sappiamo per esempio che un altro dei problemi potrebbe essere che molte società attive nei più svariati settori che in questo momento stanno patendo la penuria, il cosiddetto shortage, cioè la carenza di specialmente microchip che non consentono in alcuni casi di andare in produzione, anzi in alcuni casi si sono dovute stoppare nel settore produttivo delle produzioni per l'assenza di questo e di altre materie prime, evidentemente questo comporta anche il fatto che poi se non hai prodotti da vendere perché non riesci a produrli, nemmeno ti conviene promuoverli, pubblicizzarli, quindi ci può essere un calo anche da questo punto di vista, per cui aziende come la Apple che producono l'iPhone possono andare in sofferenza nel numero di modelli che riescono a produrre per mancanza di chip. D'altro canto non solo Snapchat come detto, ma anche tutte queste altre società che vivono prevalentemente di pubblicità potrebbero andare in forte difficoltà. E cosa può succedere a un indice come il Nasdaq che al 50% è fatto da questi grandi titoli che potrebbero avere qualche difficoltà nelle aspettative? Che senza quei titoli che valgono il 50% del Nasdaq e più o meno un quarto malcontato dell'S&P 500 è difficile poter andare strutturalmente a fare dei nuovi massimi. Certo, io non mi stupisco assolutamente di nuovi massimi, come non mi ero stupito di quel minimo relativo più basso di quelli precedenti, non mi stupirei che da questi nuovi massimi si andasse ancora oltre, così come non mi stupirei che si andasse a fare un nuovo minimo relativo ancora più basso. Questo perché il mercato è incerto e quando il mercato è incerto non vuol dire che i campioni non siano all'opera, ma significa che anche i campioni in un contesto scivoloso come il pavè della Paris-Giroubaix possono cadere, possono inciampare, possono forare una gomma, possono scivolare e quindi tante cose possono succedere. Che il mercato sia più incerto, lo si vede da alcuni fattori, IVI incluso quello che ci si rivolge di più ai titoli ciclici, che sono quelli value, altrimenti detti, che hanno bilanci più consolidati, che hanno meno possibilità di stupire troppo in senso positivo, ma anche in senso negativo. Quindi si ritorna un po' a mettere del fieno in cascina, a essere un po' più formichine e poi soprattutto si dovrà ragionare appunto su come usciranno queste trimestrali di questi colossi dell'era internet, questi nuovi latifondisti dell'era internet e poi quello che annuncerà la Fed a livello di tapering. Ovviamente anche in Europa c'è attesa per capire la BCE, che ha già annunciato di fare qualcosa che potrebbe essere come un tapering, ma non lo si può chiamare tapering, quindi staremo a vedere. Bisognerà capire anche questo perché anche il cambio euro-dollaro si è attestato intorno a 1,16-1,17, questi sono i valori, anche perché ci si aspetta un po' una risposta anche dall'Europa, quindi dall'area Euro, quindi da Christine Lagarde nel prossimo meeting della BCE. Però poi bisognerà vedere se l'attività delle due banche centrali sarà più coordinato oppure se ognuna tenderà ad andare per i fatti suoi. Certo, entrambe le banche hanno il forte mandato, l'unico mandato in comune che veramente hanno è quella di proteggere la valuta dai rischi dell'inflazione e proteggere la loro area di influenza dai rischi dell'inflazione e qualcosa devono fare, perché dopo aver detto a lungo, ma molto a lungo, che questa inflazione sarebbe stata solo passeggera, adesso devono fare i conti con un doppio dato di fatto, primo che dopo mesi e mesi di inflazione in crescita oramai già adesso non può più essere considerata passeggera, secondo che è evidente che mentre una parte legata meramente al colo di bottiglia poi rientrerà, c'è anche un'altra componente legata al fatto che alla fine si trasferirà con aumento di listini, aumento di prezzi, tutta questa inflazione che per ora è importata alla produzione, all'utente finale, quindi al CPI, al Consumer Price Index, in questo caso poi quell'inflazione diventerà strutturale e da lì poi non si tornerà indietro, quindi bisogna vedere come le banche centrali intenderanno agire per difendersi da questo. Nella vignetta infatti io metto Christine Lagarde e Jerome Powell che sono amabilmente seduti a un ristorante dove io sono cameriere, diciamo ristoratore e loro dicono e parlano di un'inflazione che secondo loro è temporanea e io gli presento un conto di 999 dollari per due pizze e due birre che ovviamente è clamorosamente inflazionato, quindi sembra quasi un po' un effetto contrapasso ma staremo a vedere, delle decisioni le dovranno effettivamente prendere. Cosa dire quindi dal punto di vista degli investimenti? Beh, questa settimana abbiamo anche assistito ad alcuni grossi calibri dal punto di vista dell'influenza, capacità di essere influencer anche nel campo degli investimenti, come Tudor Jones che ha detto che secondo lui addirittura le cripto potrebbero difendere almeno tanto quanto bene, tanto quanto loro dall'inflazione, quindi c'è stato un certo endorsement, secondo endorsement della settimana a favore del Bitcoin che ha visto anche la SEC rendere abile e arruolato un ETF che avesse come sottostante il future su Bitcoin, quindi non proprio un endorsement al Bitcoin ma uno strumento regolamentato che ha Bitcoin come sottostante e così il Bitcoin è andato a farsi un nuovo massimo storico e chissà, vedremo poi magari anche a ritracciare un po' ma insomma tutto sommato in un contesto davvero particolare, particolarmente interessante c'è sicuramente una prova di forza del loro digitale, diciamo come ama essere nominato Bitcoin. Evidentemente tutto sarà da vedere, tutto sarà da verificare, però certamente si dovrà cominciare a ragionare su come proteggere la propria liquidità dall'erosione dell'inflazione perché di certo sappiamo solo che mantenere la liquidità è il rischio più grande perché quella di sicuro va a deteriorarsi a livello di potere d'acquisto. Per questa settimana è tutto, ci sentiamo alla prossima, ciao!